Il benessere ed il piacere, con uno sconto riservato a te soltanto. Cuciterme Pass ti consente di accedere in uno dei centri termali e di benessere di Bormio, Pré-Saint-Dié, Milano e Torino. Con questo buono potrai beneficiare di una tariffa davvero irripetibile. Tutto quello che devi fare è registrarti sul sito di Cuciterme con il tuo account Facebook. Riceverai subito un Cuciterme Pass per accedere in uno dei centri Cuciterme a tua scelta, a soli 32 euro. Eventi in sauna, bagno a vapore e qualche piccola prelibatezza lungo il tuo percorso. Condividilo con tutti i tuoi amici per vivere insieme attimi di gratificazione, spensieratezza, vitalità e gioia.